Lei ci può promettere qui che la scuola quest'anno resterà aperta o comunque sarà l'ultima cosa che richiude proprio nel momento in cui non è possibile fare altro? Sì. A noi questa promessa qua fatta ufficialmente... Aspetta Gianni, te la faccio soltanto io, te l'ha fatta tutto il governo quando con il decreto del 6 di agosto ha detto esplicitamente che proprio per la salute psicofisica dei nostri ragazzi la scuola è aperta. Sì, ti ripeto di sì, questo è l'impegno di tutto il governo. Visto 40.000 aure in più la scorsa estate, quest'estate invece quante? Noi abbiamo fatto quest'anno 58.900 assunzioni di ruolo e 13.000 li abbiamo messi in un percorso di un anno che avrà il concorso l'anno prossimo. Abbiamo avviato il concorso straordinario per l'anno prossimo, quindi finiremo con altri 60.000 l'anno prossimo e quest'anno per la prima volta nella storia che tu abbiamo fatto gli incarichi annuali il 4 di settembre e non il 4. Manca degli ATA, ministro, abbiamo bisogno degli ATA, abbiamo bisogno di soldi e abbiamo bisogno di personale, le idee ci sono, noi siamo genitori, noi abbiamo fiducia in questa scuola. Questo succede solo a Bologna, nelle altre province dell'Emilia Romagna non succede questo, in pratica non è stato fatto l'organico dei professori per le scuole serali, siamo completamente scoperti. Verifico cosa è successo, grazie, ringrazio moltissimo. Vedi ministro che tutto sembra andare bene, poi le scuole hanno, ogni scuola ha un suo... No, ascoltami, in Italia ci sono 48.000 scuole, ne andiamo a verificare, laddove ci sono i problemi me lo fate sapere e immediatamente lo verifichiamo. Va bene, noi controlleremo, vogliamo sapere se poi le scuole di Bologna, le scuole serali... Ma stai tranquilla Gianna, guarda, quando ti sei ridotta, tu a fare la parte del controllore vuol dire che anche il tuo mestiere ormai è al limite. Ma come no, il giornalista fa il controllore. Lo facciamo tutti assieme, lo vediamo, ci controlliamo tutti assieme in questa città, non abbiamo bisogno di controllori. Chi è stato assessore di Emilia Romagna alla scuola negli ultimi dieci anni, che non ha mai sanato delle problematiche che sono nate oggi, sono strutturali? Lei lo sa benissimo che è stato l'assessore? Sono stato io l'assessore. Abbiamo avuto un compromesso dal ministro che la scuola non chiude, che risolverà queste questioni... No, no, aspetta Gianni, scusami un istante, perdonami, anche le parole hanno un senso. Non sono promesse, sono impegni di tutto il governo. Benissimo, benissimo. C'è un'impegno tra la promessa e l'impegno. Questo è un impegno che si è preso il governo e il suo insieme.